Dobbiamo contattare il generale Kenobi. Rapito, Jabba de Hat figlio è stato. Il trattato con Jabba, Obi-Wan negozierà. Trovare i rinnegati che hanno Jabba figlio, la tua missione sarà Skywalker. Luce rossa, stand by! Presto i Jedi non saranno in guerra solo con voi, Conte, ma anche con il clan degli Hutt. Non hanno via di scampo. Ripiegare! Capita! 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 Grazie a tutti.